Poracci non so più come ripetervelo, se siete appassionati Nintendo non potete farvi scappare l'evento di questa sera Ci vediamo a partire dalle 22 sul sito Viola per un pre-direct dove discuteremo dei possibili reveal e ci faremo consumare dall'hype Link in descrizione, a dopo Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, Dash è stato il più veloce di tutti, anche se ha messo un H di troppo, ma si sa, tanto è muta Alessandra invece sbaglia il gioco, bravo, scrivendo Smash sviluppato senza Sakurai Ma aspetta, quello non era Nickelodeon All Stars Brawl? Bah, vabbè, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte directissime, sorprendetemi Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di Youtube Italia dove si parla di videogiochi e delle presentazioni sui videogiochi Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di hype Oggi avremo finalmente il primo direct dell'anno e proprio per questo ho pensato di fare una lista dei migliori momenti che Nintendo ci ha regalato in oltre 10 anni di presentazioni Sì, avete capito bene, il primo direct andò in onda il 21 ottobre 2011, anche se l'Europa fu presa in considerazione solo a partire dal terzo direct Uscito il 22 febbraio 2012 Nel corso degli anni il format si è evoluto più e più volte, ma ha sempre mantenuto di fondo la sua funzione principale Che è quella di presentare i giochi della grande N in una forma sempre molto spettacolare e giocosa Prima di iniziare, come al solito, vi invito a partecipare alla conquista directa e non violenta di Youtube Italia In vista della fondazione del poroverso Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche sul sito Viola L'appuntamento è alle 22 di questa sera Non mancate, trovate tutti i link in descrizione Bene, ho detto tutto, iniziamo! È impossibile parlare di Nintendo Direct senza citare Satori Wata L'ex presidente di Nintendo, scomparso prematuramente nel 2015, fu l'ideatore del format e anche il suo primo presentatore E grazie a lui ogni presentazione aveva una vina comica inconfondibile Una vocazione al divertimento che forse negli anni è andata ad affievolirsi Partiamo quindi da alcuni dei suoi momenti più iconici Era il 2013 quando Nintendo decise di istituire l'anno di Luigi Rendendo così finalmente protagonista assoluto il personaggio che per antonomasia è l'eterno secondo Nel Direct dedicato a questa ricorrenza e ai giochi 3DS in particolare Wata si presentò con l'iconico cappello verde e immediatamente passò la parola a Miyamoto Per presentare Luigi's Mansion 2 Dark Moon Quello che però non molti sanno è che nella versione giapponese del Direct Ci fu una scena d'intermezzo scartata nell'edizione occidentale Dove Miyamoto arriva di soppiatto alle spalle di Wata Brandendo l'iconico aspirapolvere spettrale di Luigi Facendoli prendere un colpo e spaventandolo a morte La complicità tra i due è pazzesca e ci ricorda quanto questi colossi del mondo del gaming Fossero prima di tutto dei videogiocatori Ma vi immaginate una scenetta del genere con Shuntaru Furukawa? Un'altra figura chiave di Nintendo of America è stata quella di Reggie Phil Saimè Ex presidente di Nintendo America Divenuto celebre per la sua irriverenza e innata simpatia E anche con lui si sprecano i momenti memorabili Uno dei miei preferiti è quando Reggie e Wata presero parte a una scena di combattimento Che poteva essere tranquillamente uscita da un adattamento live action di un anime Definire la lotta come epica è riduttivo Ancor più geniale è il fatto che fu utilizzata per introdurre a sorpresa L'arrivo dei guerrieri Mii all'interno di Smash 4 E non dimentichiamoci che servì anche da scenario per il reveal ufficiale degli Amiibo Una delle idee più redditizie di Nintendo in quel periodo Iwata, Miyamoto e Reggie furono anche protagonisti dell'intro del digital event dedicato all'E3 2015 Il trio si presentò sotto forma di Muppet Ironizzando in modo perfetto sulle loro personalità e sulle loro passioni Ancora una volta si trattava di un siparietto tutt'altro che casuale Visto che i pupazzi servivano a introdurre il pubblico a un illustre ritorno Quello di Fox McCloud e della sua combriccola nel nuovo Star Fox Su YouTube è possibile trovare anche un making of della scena Che richiese un certo grado di preparazione Questa è stata anche una delle ultime apparizioni pubbliche di Iwata Prima della sua scomparsa E si vocifera che la scelta di presentarsi in versione pupazzo Fu a causa delle condizioni di salute del presidente Che preferì non appesantire il cuore del pubblico Ma come ho detto nonostante la dipartita di Iwata Abbia reso un po' più fredde queste presentazioni E Nintendo Direct continuano a presentare questo spirito giocoso Che li ha contraddistinti da sempre Un esempio recente? Beh, prendiamo l'arrivo di Doug Bowser Quante possibilità c'erano che una persona con un cognome così importante Diventasse presidente di Nintendo of America? Molte poche E giustamente l'azienda di Kyoto Non si è lasciata sfuggire l'occasione Introducendo Doug Bowser Con un siparietto che ha visto protagonisti anche Koizumi E l'acerrimo rivale di Super Mario Non deve essere stato semplice Prendere il posto di una figura così amata Come quella di Reggie E chiaramente Bowser dosa molto di più le sue apparizioni pubbliche Però qui secondo me ha mostrato un carisma non scontato Ma l'universo Nintendo non si ferma certo qui E nel corso degli anni sono tantissimi i nomi che sono diventati Dei veri e propri punti di riferimento per gli appassionati della grande N E uno di questi è Bill Trinen Trinen lavora in Nintendo sin dagli anni 90 Si è occupato di tradurre dal giapponese diversi giochi Fino a diventare l'interprete personale di Shigeru Miyamoto Col tempo è diventato una figura di spicco dell'organico di Nintendo of America E fino a qualche anno fa la sua presenza nei direct era assicurata In quello di novembre 2015 fu protagonista di una scena pensata Per promuovere l'ultimo capitolo di Yo-Kai Watch Qui Trinen veniva posseduto da uno Yo-Kai E iniziava a ingozzarsi di dolci presi da Reggie Come rinfresco per un meeting di lavoro Anche qui le interazioni sono completamente fuori di testa E c'è anche un gigarutto finale Capolavoro Su YouTube è possibile trovare anche delle clip aggiuntive Che sono state pubblicate successivamente da Nintendo Vi consiglio di recuperarle Trinen però è stato anche il presentatore Di uno dei direct più foglie fuori di testa mai concepiti da Nintendo Quello dedicato esclusivamente a Tomodachi Live Se non l'avete mai visto vi consiglio di recuperare assolutamente il video Che tanto dura solo una decina di minuti Qui le versioni Mi dei volti Nintendo sono catturati in dei momenti assurdi Vi faccio un esempio Aonuma ci prova con Zelda in un bar Quando improvvisamente viene fermato da Miyamoto travestito da Link Lo stesso che pochi istanti prima era stato avvistato in seguire Peach In riva al mare vestito da Super Mario E questo è solo l'inizio per un capolavoro di presentazione Sul serio andate subito a recuperarla Ma è giusto dare spazio ai videogiochi e i direct sono sempre stati delle vetrine di esposizione importantissime In grado di catalizzare l'attenzione del pubblico molto spesso su giochi inaspettati Ah la magia dietro a quelle tre parole One more thing La formula che più di tutto è in grado di mandare in ansia e in hype totale gli appassionati di tutto il mondo Vedere Shinya Takashi che mette la mano a cucchiara come un amico che ci sta svelando un segreto in confidenza È forse una delle scene più belle che abbiamo visto A maggior ragione se pensiamo che questo segreto era Breath of the Wild 2 E vogliamo parlare di Koizumi che dopo un lunghissimo trailer di presentazione dell'espansione di Splatoon 2 Schiocca le dita e trasporta i giocatori in un finto trailer di Splatoon Solo per mandare tutti quanti in hype totale col nuovo Smash Oppure l'emozione di leggere Everyone is here durante le 3 2018 O anche scoprire che Banjo sarebbe tornato su console Nintendo dopo anni di assenza Questi sono sicuramente alcuni dei momenti più emozionanti che ho vissuto nella mia vita da gamer C'è poco da dire Ed è per questo che adoro i direct Perché sì alla fine sono solo un grandissimo stunt pubblicitario Ma sono sempre confezionati in un modo tale da colpire al cuore chi videogiochi li vive con passione A volte forse un po' troppa Ed è per questo che non vedo l'ora che siano le 11 di questa sera Per discutere, divertirmi, emozionarmi e rimanere deluso ancora una volta Questa volta però non da solo Insieme a tutti voi Ci vediamo alle 22 sul canale Viola E non mi resta che augurarvi un buon direct Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E mi raccomando fate bravi, riposatevi Ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro Hype, Michele Direct, ciao! Ehi 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 fermo, se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ciao!